Ciao a tutti amici, benvenuti in questo video. Vedete la cosa particolare di un video verticale? Ci troviamo in una fiera del fumetto e ne approfitto per registrare un video in verticale e far vedere ad un amico che me l'ha chiesto come realizzare i video verticali per risfruttarli poi per i social. E quindi lasciamo spazio alle riprese e a questo tutorial. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ciao a tutti eccoci qua con un nuovo video. Pinnacle Studio 2322. Un amico mi aveva chiesto se è possibile esportare i video in formato 9 sedicesimi e quindi con risoluzione del video in verticale. Inizialmente ed erroneamente io avevo guardato, avevo visto che si potevano fare video quadrati. Questo probabilmente perché l'azienda aveva inserito dei video da poter inserire in Instagram o social che utilizzavano inizialmente video quadrati. Adesso sappiamo ad esempio in Facebook si possono usare anche video verticali. Diciamo che questi tipo di video permettono di avere lo schermo pieno senza la rotazione ovviamente del telefono. Se non basterebbe fare un video orizzontale, ruotare il telefono e guardarselo comandamente in orizzontale a pieno schermo. Ma diciamo che in Facebook appunto sono utilizzati. Io questa domenica ho approfittato di una fiera di fumetti per girare 3-4 video in verticale e fare alcune prove. Allora dico anticipatamente e adesso andremo a vedere il perché, con Pinacon ancora non si possono renderizzare e fare video verticali, cioè esportare video verticali. Andiamo a vedere come si dovrebbe procedere. Su Configura, Pannello di controllo, abbiamo tutte le impostazioni del programma. Sulle impostazioni di progetto abbiamo questo segno di spunta che attiva il rilevamento del formato della prima clip inserita in timeline e imposta appunto la timeline con quella risoluzione. Quindi la prima cosa è aver attivato questo segno di spunta. Cosa succede? Succede che in sorgente, in preview, la risoluzione è effettivamente quella verticale. Vedete che non ci sono appunto bande nere verticali. Invece nella parte timeline montaggio abbiamo le linee verticali. Questo perché? Perché le risoluzioni del montaggio sono queste. Se andiamo a cliccare vedremo standard 4 terzi che ormai non si usa più purtroppo. Dico purtroppo perché sarebbe stato un formato studiato per cadere all'interno della retina dell'occhio. Quindi forse era il formato più idoneo a essere visto dall'uomo insomma. Poi abbiamo adesso il formato 16 noni che è quello più diffuso. Abbiamo un formato per i video 360 e abbiamo il video quadrato. Infatti Pinacol cerca di inserire un video quadrato per i video verticali ma ovviamente ci verranno le bande nere. A questo punto si potrebbe ovviare inserendo dietro un background utilizzando il video quadrato ma in questo modo sui social non riusciremo a riempire l'intero schermo ma avremo un restringimento in verticale perché il video è quadrato. E così anche se andiamo su esporta vedremo le stesse risoluzioni e infatti vediamo che viene inserita una risoluzione quadrata. Ora io faccio una prova di forzare comunque la risoluzione verticale e esportare. Vediamo cosa succede. Vedete che le bande nere restano comunque. E quindi succede una cosa stranissima. Mi va a strecciare, cioè la risoluzione verticale la prende, potremmo provare a fare una cosa di questo genere, cioè imbrogliare, quindi mi sposto, clicco la clip, mi sposto sull'editor, vado in dimensione e sgancio il lucchetto. A questo punto vado a strecciare la figura per portarla quadrata, attenzione di lavorare proprio al millimetro. E dovrò strecciare tutti i miei video in questa maniera. Lo vado a esportare e adesso qui vado a inserire la risoluzione del mio telefonino, un piccolo Huawei per cui non ha questa grande risoluzione, che è 720x1280. La vado a applicare, come vediamo qui il video è ancora quadrato. Vado a esportare, scriviamo prova 2, avvio l'esportazione, vediamo, non l'avevo fatto prima, lo sto facendo adesso assieme con voi, vediamo se questa è un'idea che può funzionare. E se andiamo a vedere il file, in anteprima vedete che darebbe il video senza le righe, quindi questo trucchetto funzionerebbe. Però questo formato, codificato così, non viene riconosciuto da nessun lettore. E se lo inseriamo in Facebook, dice che il video è inferiore a un secondo. Quindi diciamo che il programma, neanche con questo trucco, è in grado di esportare il video verticale. Infatti la Corel mi ha detto che l'esportazione non è ancora compatibile con i video verticali. Per questo io ho fatto richiesta alla Corel e mi hanno detto che sarà una cosa che inseriranno sicuramente nelle prossime versioni. Io ci tengo perché ho scritto anche oggi al reparto tecnico, vediamo se sarà possibile avere questa modifica. Ma visto che io le immagini le ho girate, vediamo invece in che programma è possibile fare questo. In Video Pro X, ad esempio, l'approccio è un po' particolare. Adesso vado a inserire un video, questi sono i video originali che ho girato e come vedete li vede come video orizzontali. Vado a portarne uno, vado a spegnere. Se vado a visionare, vedete, io ho impostato la risoluzione verticale, però il video si vede orizzontale. Andiamo ad allargare un po' la zona dei monitor. Però, diciamo, il risultato si ottiene molto velocemente. Andando su Effetti, scendiamo fino a Rotazione Mirror e qui abbiamo un comando, anche fisso Rotate, che ci permette di ruotare il nostro oggetto molto velocemente. Questo è, se abbiamo più clip, può essere eseguito anche su più clip. Adesso vado a selezionare tutte le clip che avevo fatto, così vi faccio vedere. Quindi andrò con una multiselezione a selezionare tutte le clip. Vado su Effetti, eseguo la rotazione e in quel momento tutti i video avranno la rotazione corretta del video in verticale. Posso eseguire il montaggio tranquillamente. E adesso faccio una piccola prova di esportazione di un pezzettino. Prendiamo sempre questo, che è carino, con il ragazzo che mi ha fatto il movimento. E andiamo in esportazione. Export Movie. Facciamo come MP4. E stiamo attenti che la risoluzione sia quella verticale 720x1280. Andiamo a segnare un nome che sia riconoscibile, perché ormai ho fatto diverse prove all'interno. E esportiamo il nostro filmato. Ovviamente visto su un player il filmato si vede che è verticale, ma restano le bande, perché certi player non si adattano al formato del video. Però proviamo a inserirlo in Facebook. Una volta inserito ed elaborato il video in Facebook, fate attenzione perché la visione in computer sarà sempre e comunque quadrata. Come vedete, va a inserire un fondo sfocato. Invece, come vedete, da telefonino, una volta lanciato il video, va a riempire tutto lo schermo in verticale. Un programma che gestisce invece qualsiasi risoluzione è Bluffle Title. In Bluffle Title non solo potete fare video verticali, ma potete fare sia video verticali che orizzontali con risoluzioni assurde. Basta impostare la risoluzione e la risoluzione è completamente libera. In base alla risoluzione che impostate voi, se io imposto un'altezza di 200 e una larghezza di 200x1080, avrà, come vedete, una riga. Lo stesso per altre risoluzioni. Quindi possiamo andare a impostare qualsiasi cosa. Quindi se vogliamo impostare una larghezza di 720x1280, ecco qua la nostra dimensione dello schermo del telefonino. Potete creare anche animazioni proprio come sfondo del telefonino, ad esempio. Se no, se volete il vostro video, andiamo a cancellare la scritta. Andiamo a caricare un Picture Layer con l'immagine del telefonino, ad esempio questa qua. Ci sarà sufficiente impostare che l'immagine sia a pieno schermo, in primo piano, e quindi così. Andando a esportare il video, non dobbiamo preoccuparci perché la risoluzione ovviamente è quella. E ecco il nostro video verticale. Adesso vi ricordo che è il player che non si adatta, ma il video alla risoluzione verticale vedete che è 720x1280. Questa può essere una cosa carina con Waffle Title per inserire al di sopra qualsiasi animazione vogliate, qualsiasi scritta e qualsiasi cosa, insomma. Ecco ad esempio inserito Bix all'interno del video del girato con il cellulare, vedete. Ed ecco il nostro personaggio inserito con tanto di ombra all'interno dell'immagine. Peccato che non esista ancora il tracking in Waffle Title, ma ci arriveremo. Bene, io vi ringrazio per la visualizzazione di questo video e ci rivediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti! Grazie a tutti!